mi piace per esempio fa tappa anche ad arcella frazione di montepredene intanto vedete che atmosfera natalizia c'è nella contrada almeno nei pressi della chiesa la stella con l'albero di natale entriamo perché ci dovrebbe essere Don Enrico eccolo qua Don Enrico grazie per averci ricevuto che bel presepio un presepio che invita alla riflessione diceva prima il pensiero che di questa iniziativa è stata quella di dare un primo input quando si entra in questo luogo anziché distrarsi per fermare il proprio sguardo all'inizio della nostra salvezza cioè la natività quindi anche questo è stato un motivo e vogliamo che questo rimanga per sempre non è che solo in questo periodo natalizio quindi anche durante tutto permanente cosa rappresenta questo presepio Don Enrico la natività no nel senso dire a livello di ambientazione di ambientazione questa scena vuole riprodurre da una nostra zona dell'Irpinia un paesaggio Irpino con la montagna di Montevergine e poi la natività c'è una doppia visione la visione rurale diciamo semplice e paesana della parte delle case illuminate e la parte diciamo centrale della natività che è il fulcro di questo segno che il Papa chiama ammirabile segno quindi Papa Francesco questo quindi vuole per noi vuole diciamo riportarci all'origine cioè al motivo della nostra fede noi siamo credenti cristiani proprio in virtù di questo Cristo fattosi uomo perciò abbiamo voluto che questo segno sia sempre davanti ai nostri occhi per poter riflettere su questi misteri così grandi e importanti per ciascuno poi per Arcella questa contrata a volte maltrattata ha un significato ancora più amplificato è un segno di rinascita di riprendere un pochino dalle origini ritornare alle origini e providenzialmente è vero che si sta verificando una brutta situazione delle fabbriche ma quello ci fa riportare ai tempi di una volta quando queste zone senza i fumi delle varie diciamo manifestazioni i fumi delle industrie noi vogliamo cercare di ritornare un pochino a sentire il respiro di quella nostra originalità bene complimenti per il presepio e complimenti anche a lei quanti anni ha io ne ho parecchi ho finito il 87 e comincio il 88 e beh complimenti Donerì ma a lei piace il presepio no? all'Eduardo mi piace mi piace non no 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 Grazie a tutti